buonasera quella che presento è una introduzione alle religioni del mondo in altre lezioni ho parlato in maniera specifica del cristianesimo dell'islam dei testimoni di geova di altre religioni questa è una lezione introduttiva sulle religioni del mondo in questa terza parte continueremo a vedere il capitolo numero 3 cioè parleremo dei principali luoghi di culto di roma continuiamo questa introduzione alle religioni del mondo nelle due lezioni precedenti abbiamo già visto le statistiche sulle religioni del mondo quali sono le religioni presenti in italia e abbiamo iniziato a vedere già quali sono i principali luoghi di culto di roma abbiamo parlato della basilica di san giovanni in laterano e della basilica di san paolo fuori le mura continuiamo a vedere quali sono le basiliche papali cioè quali sono le principali chiese cattoliche di roma nella lezione precedente abbiamo già parlato di due delle quattro basiliche papali di roma la terza basilica papale di cui vorrei parlarvi è la basilica di santa maria maggiore vediamo dove è situata come vedete nelle immagini la basilica di santa maria maggiore è situata a roma sul colle esquilino ecco la basilica siamo nei pressi della stazione termini e di piazza vittorio emanuele secondo edificata nel quarto secolo durante il pontificato di papa liberio infatti anche chiamata la basilica liberiana fu ricostruita o ristrutturata da papa assisto terzo nel quinto secolo che la dedicò al culto della madonna la costruzione avvenne su una chiesa precedente che una diffusa tradizione vuole sia stata la madonna stessa a ispirare apparendo in sogno a papa liberio e al patrizio giovanni e suggerendo il luogo adatto dove costruirla cioè su questo una leggenda che tramanda la tradizione la cosiddetta leggenda del miracolo della neve a santa maria maggiore la leggenda racconta che nell'anno 358 dopo cristo il nobile patrizio romano giovanni la moglie non avendo figli decisero di offrire i loro beni alla santa vergine per costruire una chiesa da dedicarle la madonna apparve agli sposi la notte tra il 4 e il 5 agosto designando con un miracolo il luogo dove doveva sorgere la chiesa i coniugi riferirono a papa liberio il sogno fatto da entrambi scoprendo che anche il papa aveva fatto lo stesso sogno liberio quindi si recò al luogo sul luogo indicato il colle squilino e la leggenda narra che lo trovò coperto di neve nonostante si fosse appunto in piena estate era il 5 agosto il pontefice tracciò il perimetro della nuova chiesa seguendo la superficie del terreno innevato e fece costruire il tempio a spese dei nobili coniugi che ne avevano fatto promesso alla madonna questa è la leggenda che spiega perché santa maria maggiore è stata costruita proprio in questo punto di roma la basilica di santa maria maggiore è la più importante e forse anche la prima chiesa romana dedicata alla vergine bisogna ricordare che l'edificio della basilica comprese le scalinate esterne costituisce area extraterritoriale cosa vuol dire vuol dire che l'edificio della basilica è come se fosse in un territorio di un altro stato appartiene al territorio del stato della città del vaticano ecco la pianta della basilica come vedete è una basilica a tre navate e in fondo abbiamo l'abside anche in questa basilica c'è un baldacchino o meglio un ciborio che sovrasta l'altare papale poi davanti all'altare papale abbiamo quella che chiamata confessione che vedremo ospita un reliquiario contenente parti della culla che avrebbe ospitato gesù bambino e poi abbiamo numerose cappelle sia da una parte che dall'altra l'immagine mostra la navata centrale della basilica di santa maria maggiore innanzitutto anche in questa basilica sono sepolti dei papi papa clemente ottavo paolo quinto sisto quinto e pio quinto per quanto riguarda il soffitto cassettonato che vedete nell'immagine è realizzato con dorature a foglia d'oro che secondo la tradizione furono realizzate con il primo oro giunto dalle americhe probabilmente dal perù e donato dal re di spagna alla chiesa cosa vuol dire questo vuol dire che l'oro che hanno usato per dorare il soffitto è stato donato dal re di spagna ed è quell'oro che è stato ottenuto agli spagnoli massacrando e sterminando gli indios dopo la venuta di colombo nelle americhe le due immagini mostrano l'altare papale abbiamo già detto che nelle basiliche papali altare papale vuol dire che soltanto il papa può celebrarvi messa o può farlo un altro sacerdote se è delegato dal papa anche in questo caso sopra l'altare papale abbiamo un baldacchino o meglio il ciborio e già vedete che davanti all'altare c'è quel semicerchio chiamato confessione nella foto di destra potete vedere come al di sotto dell'altare vi è un reliquario con i resti della culla di gesù almeno così dice la tradizione vediamo meglio nell'immagine di sinistra vedete ancora l'altare papale e sopra il baldacchino ciborio davanti all'altare quel semicerchio è chiamato confessione quel semicerchio di colonnine quella balaustra due rampe di scale fanno scendere come vedete nella foto di destra al di sotto del livello dell'altare e sotto l'altare abbiamo innanzitutto la statua di un papa pio nono in preghiera e in fondo c'è un reliquiario che secondo la tradizione contiene i resti della culla in cui sarebbe nato gesù la tradizione contiene i resti della culla in cui sarebbe nato gesù o Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.